Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart. A 12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno e in uscita in direzione Sud. Su raccordo Siena-Firenze per lavori, scambio di carreggiata tra San Casciano e imprunita greve inchianti con possibili disagi alla circolazione. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!